A 48 ore dal Jova Beach Party proseguono senza sosti i lavori per allestimento dell'area concerto sulla spiaggia e sulla rivera di Montesilvano. Gli operai hanno anche risistemato il tratto di arenile danneggiato dalla mareggiata di due giorni fa. Intanto è sold out per gli alberghi dell'area metropolitana Pescara-Montesilvano, Marina di Città Sant'Angelo e Silvi. Si continua a lavorare all'acremente al fine di arrivare all'appuntamento nel miglior modo possibile. Stiamo curando tutto nei minimi dettagli, ovviamente sempre in concerto con gli enti sovraccomunali, quali prefettura, questura, tutte le forze dell'ordine, ma anche dagli operatori sanitari per garantire massima sicurezza e massima fluidità per quello che riguarda afflusso e deflusso. Al tempo stesso c'è grande soddisfazione perché gli operatori commerciali si stanno organizzando e siamo felici e stanno avendo già da adesso prenotazioni e un grande riscontro, così come gli operatori alberghieri, non soltanto a Montesilvanese, ma anche legati a Città Sant'Angelo, Pescara e Silvi, dove mi dicono che già c'è il sold out. Avremo tutto il lungomare interdetto alla circolazione e alcune zone del retropineta che saranno totalmente interdette alla circolazione e alla sosta. Nella cartina sono indicate come zone rosse, potranno soltanto circolare i residenti in caso di emergenza e a piedi. Verranno tolte anche tutte le macchine lasciate in sosta per motivi di sicurezza voluti fortemente dalla costura. Ci sarà tutta l'area antistante il Palacongressi, Porto Allegro e la zona dei grandi alberghi riservata alla sosta per il concerto. Poi ci sarà tutta la zona retrostante il Teatro del Mare, fino alla stazione che stanno facendo i lavori, verrà spianata e lì ci saranno circa 2.000 posti auto. In più avremo oltre 1.000 posti auto sulla strada parco, quindi ritengo che siamo abbastanza coperti, oltre i 5.000 posti di Pescara.